Questa è una mostra dei modellini del maestro Tasha, Giacomo Costa è uno degli ultimi maestri Tasha che abbiamo a Messina in grado di costruire una bacca intera in legno. Questo modellino è costruito allo stesso modo delle costruzioni delle barche in legno più grandi. Questa è una semplificazione della barca dei pescatori del pesce spada con il ponte altissimo e la torre di avvistamento del pesce spada. Questa è una barca che si usava per portare le redi più grandi. Questa è una barca che si usava per portare le redi più grandi. Questa è una barca molto lunga rispetto alle altre. Scala 1 a 25 questa. Per la pesca del pesce azzurro. Questa è invece la barca che per San Nicola i paesani di Canti li portano in processione sul lago. Questo è invece il vecchio Luntro, la barca con cui si pescava tanti anni fa quando non c'erano i motori si pescava il pesce spada. Questa è una barca che si usava per portare le redi più grandi. Questa è una barca che si usava per portare le redi più grandi. interessante. Questa è la barca che si usava per portare le redi più grandi. Questa è la barca che si usava per portare le redi più grandi. Grazie.